Il giovane violinista riminese Federico Mecozzi è pronto a portare il suo violino e la sua musica in giro per l'Europa e diversi i paesi che toccherà con l'album Awakening. Allora Federico, qual è il significato di quest'album e di questa tournée, di questo risveglio? Awakening, appunto risveglio, ha tanti significati. Il primo è molto personale, nel senso che per me è un risveglio, è un risvegliare l'essenza di quello che musicalmente avevo bisogno di dire e condensare tutto questo in un disco. Proporlo a un pubblico non solo italiano, ma appunto di tante capitali europee, sarà sicuramente un'esperienza magnifica e vedere anche come risponde la gente a seconda delle culture, dei luoghi in cui suoneremo. E dalle capitali europee però arrivi anche nel capoluogo romagnolo tuo prediletto, che è quello riminese, perché al Teatro Galli il 16-17 maggio porterai una rielaborazione di questa tournée, giusto? Esatto, sarà un ritornare al Galli, che sarà quindi una chiusura di un ciclo dove il Galli era stato, diciamo, il luogo dell'inizio di questo disco, della presentazione, quindi dei primi concerti, rivisitato in una chiave sinfonica eseguito da me e dall'orchestra sinfonica Rimini Classica, per cui è una chiave di lettura, diciamo, della stessa musica, però totalmente diversa. Grazie.